Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, siamo su Eskian from Tarkov nella versione 0.15, siamo sempre nel PVE Oggi vi faccio vedere la nuova quest di Prepor, che sarebbe Possessor, questa qui Dove dobbiamo andare su Factory, sulla nuova Factory Andare nella zona dell'elicottero e prendere un libro e consegnaglielo Ora vi faccio vedere ragazzi dove si trova di preciso, diciamo, questo libro Andiamo intanto sempre nell'offline, cioè nell'offline dell'offline E quindi vi faccio vedere dove si trova Poi ragazzi se volete altri tutorial per quanto riguardano le nuove quest Oppure se volete anche un tutorial per quanto riguarda la nuova Factory Le estrazioni nuove, questo e quell'altro Fatemelo sapere qui sotto nei commenti che vi realizzo il tutorial Vi realizzo Tanto ora noi ci vediamo direttamente ragazzi in game Se siamo spawnati noi ci dobbiamo, diciamo, dirigere nella zona Quella delle tende mediche di Terra Group Che dovrebbe essere verso qua perché l'elicottero si trova là Cioè non so quando ragazzi nel dvp la sblocca la quest Io credo che qua l'ho sbloccata Cioè ce l'ho già sbloccata Noi dobbiamo dirigerci là Quindi saliamo queste scale qui ragazzi È molto pericoloso, fidatevi Che dovete stare molto attenti a, come si dice, a non farvi beccare dei nemici E quindi dobbiamo dirigerci qua e qua ci dovrebbe spuntare un libro Premete F e lo potete E dovete estrarre vivi per consegnargli il libro a Prepor Vi mettono uno screen di dove, diciamo, si trova di preciso Ma comunque Noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video In un prossimo tutorial sempre nelle nuove quest di Darkov Per quanto riguarda sempre questo wipe Che è uscito ieri Noi ci vediamo ragazzi in un prossimo video Lasciate un bel like, scrivete, commentate, condividete Condividete con tutti i vostri amici A più persone possibili Noi ci vediamo ragazzi Ciao